Siete tra l'altro rappresentate una comunità straordinariamente bella, ricca, vivace nella nostra città, quindi io mi auguro che la nostra comunità più la parte diciamo di calabresi nel mondo, più la regione e tutti gli amici calabresi ci aiutino a costruire un eco che sia un eco bellissima per Milano, per la Calabria e per l'Italia, questo è il mio spiego.